Ai fratelli musulmani dal Crislam, la sura al-Iqlas 112, il puro monoteismo, la cui recitazione equivale a un terzo del Corano. In nome di Allah, il compassionevole e misericordioso, non c'è altro Dio che Allah, ma ometto il suo profeta e Gesù il suo Messia. In nome di Allah, il compassionevole e misericordioso, di Egli Allah è unico, Allah è l'astruto, non ha generato, non è stato generato, nessuno è uguale a Lui. Amen. Continuiamo la preghiera con la sura al-Fatia, la prente. In nome di Allah, il compassionevole e misericordioso, la lode appartiene ad Allah, Signore dei Mondi, il compassionevole e misericordioso, re del giorno del giudizio. A te noi adoriamo, a te chiediamo aiuto, guidaci sulla retta via, la via di coloro che hai colmato di grazia, non di coloro che sono incorsi nella tua ira e negli sviati. Dio, Geova Allah, non perdona, non sopporta gli associatori, nessuno va associato a Dio. Dopo queste preghiere dal Sacro Corano, dal Crislam, la preghiera di Israele, Shema Israele. Ascolta Israele, il Signore tuo Dio è uno, non avrai altro Dio all'infuori di me. E di questo ti devi sempre ricordare, il Signore tuo Dio è uno. Dio si presentò a Mosè sul Sinei dicendo Yahweh, io sono colui che sono. Dal Cristianesimo, Giovanni 1.1 In principio era la parola, la parola era con Dio e la parola era un Dio, dalla traduzione del Nuovo Mondo. Giovanni 8.58 Prima che Abramo fosse, io ero. Amen. Perché non si confonda Gesù con Dio, Gesù il Messia con Dio, preghiamo. La preghiera modello che ha insegnato Gesù. Padre nostro che se ne cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo che si interra, dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E di nuovo, lascia mai Israele. Ascolta Israele, il Signore tuo Dio è uno, ma avrai altri dèi all'infuori di me, disse la Signora Mosè sul Sinei. Amen. Con questo è tutto, vi saluto.